Una gara particolare che strappa un sorriso ai tifosi del Peschiara. Il Memorial Morosini nella cornice del Menti di Vicenza mostra i progressi della squadra di Massimo Oddo che si impone per 1-2 sul campo dei Veneti, rinnovando ancora un gemellaggio tra i più antichi della tradizione calcistica italiana e che porterà nella composizione delle terze divise da gioco a scambiarsi i colori per una stagione, esattamente come hanno fatto ieri sera, bianco-azzurro per il Vicenza, bianco-rosso per il Delfino. Peraltro in una serata nella quale il ricordo dello sfortunato giocatore del Livorno, morto proprio lo stadio adriatico, aleggia forte. Per il resto il Pescara vince, lo fa giocando meglio soprattutto nella prima frazione, quando nel giro di 5 minuti tra il 23esimo e il 28esimo di fatto chiude già la pratica e i sorrisi vengono dalle punte. L'apertura è affidata a Manai che batte Benussi sugli sviluppi di un corner e si conferma attaccante e temibile già in palla. Il raddoppio parte ancora dall'Albanese che si procura il rigore che Caprari trasforma. Nella ripresa molti cambi, Oddo rivoluziona la squadra e i Veneti accorciano le distanze a 7 dal 90esimo grazie a Siega che di testa batte Aresti. Sul fronte mercato invece rimane vivo l'interesse espresso in primis dal presidente Sebastiani su altri due giocatori scuola Inter, Yao e Nukuri, con i nerazzurri che in cambio potrebbero strappare una promessa per Verre. Chiaro che il doppio affare Biraghi Caprari apre un canale privilegiato con Piero Ausilio, ma nelle ultime ore si sono intensificati i rapporti con il Visla Cracovia per il difensore classe 1987 Richard Guzmix, calciatore nel giro della nazionale ungherese. Operazione prossima alla chiusura, già domani potrebbe rifare la firma del giocatore.